Abelin Razzanamami è un'anziana vedova che vive nel Madagascar centrale. A 71 anni è orgogliosa della sua indipendenza. Mio figlio si è sposato e non deve pensare anche a me, oltre a prendersi cura della sua famiglia. Desidero poter badare a me stessa, anche perché sono in grado di lavorare. Abelin mantiene la sua indipendenza producendo riso in gran quantità e questo grazie ad una tecnica nota come sistema di intensificazione del riso o SIR. La mia risaia è piuttosto piccola, circa mezzo ettaro, ma grazie al sistema SIR ora produce molto con una resa uguale a quella di risaie di uno o due ettari. Il SIR è stato messo a punto proprio qui, all'inizio degli anni Ottanta, da padre Henri de Loulany, un gesuita francese che lavorava con gli agricoltori locali. Il metodo prevede di trapiantare piantine molto giovani, cresciute nei vivai direttamente nei campi. Le piantine sono trapiantate singolarmente e senza terra e messe a dimora ad una distanza precisa le une dalle altre. La quantità di acqua per irrigarle è minima e il drenaggio deve essere sistematico. Questo campo è stato piantato usando il metodo tradizionale, mentre quello a destra è coevo, ma è stato piantato secondo il metodo SIR. I dati parlano di un aumento di produzione del riso da una media di due tonnellate per ettaro fino a otto tonnellate o addirittura dodici per le varietà locali. Le informazioni relative al sistema di intensificazione del riso raggiungono gli agricoltori in tutto il paese e anche all'estero, grazie ad un'iniziativa finanziata da IFAD, il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo. Sono molto felice perché ciò che mi hanno insegnato mi ha fatto guadagnare. E allora perché non insegnare il sistema anche ad altri? Nella nostra area nessuno usa più il metodo tradizionale e tutti piantano le piantine secondo lo schema SIR. Il metodo sembra diffondersi molto rapidamente. Ricercatori dell'Università di Reading in Gran Bretagna hanno calcolato che oltre 5 milioni di agricoltori nel mondo hanno adottato il SIR per coltivare il riso.